ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato ad una battaglia intro con termine particolarmente cruento che altro non vuole essere che una metafora per indicare uno scontro un confronto una prova comparativa tra due orologi ma di cosa si tratta si tratta dello zodiac olympos orologio dalla sagoma particolare che fu lanciato negli anni 60 e che oggi continua ad essere a catalogo fu realizzato in particolare per la royal navy britannica e il suo segno distintivo è la cassa forma di manta non passa certo inosservato un orologio che a me mi è sempre piaciuto quello è suo segno distintivo l'orologio mi è stato messo a disposizione dell'amico giacomo titolare della gioielleria pasquali domenici di viareggio che è parte nell'ufficiale del canale e che mi mette a disposizione gli orologi offre un trattamento di favore a voi che state guardando anche su questi orologi qua sugli zodiac delle quale è anche concessionario ufficiale a dire la verità non è che me l'ha messo a disposizione me li ha messi a disposizione perché gli orologi sono due cioè 37.5 mm e 40 mm le due versioni e meno male che li ho presi due perché inizialmente volevo prendere solamente un modello no anche un po per tagliar corto avevo deciso che quello da 37.5 sarebbe stato quello più l'ideale no un orologio abbastanza elegante piccolino compatto poi con la forma di cassa così una cassa di forma magari veste di più no volevo prendere solo 37.5 meno male invece che li ho presi tutti e due perché poi come vedrete il vincitore è tutt'altro è quello da 40 mm ve lo anticipo già per me è quello da 40 mm una prova comparativa che poi mette in evidenza certe peculiarità che ribaltano la situazione praticamente ora io ho scelto due colorazioni particolari però a disposizione sul catalogo di zodiac ci sono numerose numerose versioni anzi più che numerose diciamo che ce ne sono 5 o 6 per la versione da 37 mm e solamente due per quelle da 40 mm quindi la scelta è abbastanza ampia potete anche insomma guardare da voi in autonomia e vedere quali sono quelli più adatti a voi adesso prima di girare la camera e dare un'occhiatina a questi due orologi vi mostro l'orologio del giorno che ancora una volta il mio bellissimo dealer vetta dyna wind 39 mm di diametro cassa calibro sellito sv200 quadrante nero indici a contrasto carattere stile militare orologio che mi piace molto nonostante il suo simpatico vetro minerale che è a rischio no sono un pochino più tenero rispetto a quello zaffero però mi piace talmente tanto con il cinturino nato così militare che mi garba assai quindi lo indosso con piacere come si suol dire adesso giriamo la camera diamo un'occhiatella e due orologi alla comparativa vediamo chi vince ma chi vincerà non si sa no e poi torniamo qua per le considerazioni finali iniziamo snocciolando i risultati delle misurazioni effettuate che mai come in questo caso diventano fondamentali per comprendere i due differenti modelli diametro cassa 37.5 e 40 mm spessore 10.9 e 12.5 mm ingombro trasversale al polso rispettivamente 45 mm e 46.5 mm interasse ansa da 19 su uno e da 20 sull'altro come si vede le misure variano esattamente in proporzione non c'è nessun parametro che muovendosi da un diametro all'altro pare risultare fuori luogo anche lo spessore di 12.5 mm che spalmato su di un diametro maggiore appare adeguato all'aspetto generale senza tener conto poi che i 12.5 mm vanno a posizionarsi in un contesto nel quale l'orologio viene dichiarato impermeabile a 200 metri rispetto ai 50 del modello più piccolo oserei dire in termini scientifici tanta roba occorre però fare una precisazione essendo in presenza di una cassa asimmetrica e sagomata risulterà improprio utilizzare il termine diametro ed infatti la misura di 40 mm viene presa agli estremi degli spigoli quindi nel punto più ampio misurando la cassa alle 9 e un quarto si ottiene il dato di 39.2 mm che è poi la vestibilità reale di questo orologio che dimostra meno millimetri di quanti gliene vengano assegnati stesso discorso anche se meno accentuato per il piccolo della famiglia la misura orizzontale diventa 37 in luogo dei 37.5 al polso entrambi hanno il loro perché più elegante fine 37 mm più sportivo e militare il 40 se dovesse fare una scelta definitiva sceglierei 40 mm ma non solo per la misura lo vedremo poi nelle considerazioni finali a questo punto mi occorre abbandonare la filosofia e diventare didascalico è necessario per mettere in evidenza le differenze tra i due modelli non si tratta infatti di una miniatura dell'altro o se vogliamo di due orologi identici in scala differente ma proprio di due concezioni differenti ad esempio il diametro del quadrante è rispettivamente 31.4 e 32.2 meno di un millimetro di differenza laddove il diametro cassa si discosta di ben 3 gran parte di questa misura si riversa sulla lunetta che sul 40 è ben più presente in pieno stile field watch se non bastasse è anche a finitura diversa satinata circolarmente sul 40 e lucida sul 37 quest'ultimo è chiaramente più elegante e fine la corona di carica a vite con 200 metri di impermeabilità da una parte e a pressione con 50 dall'altra a parer mio è veramente un plus avere un orologio non diver che presenta un impermeabilità così elevata e la corona vite diventa una caratteristica tecnica necessaria dall'altra parte abbiamo una corona pressione che appare anche di dimensioni più contenute si va a mimetizzare maggiormente nel corpo cassa e ingentilisce l'aspetto globale meno rozzo rispetto alla corona del 40 il vetro zaffiro appare leggermente curvato per entrambi chiaramente è più spesso quello deputato a reggere le 20 atmosfere di pressione ma di poco e la resa visiva è quasi la stessa ruotando l'orologio troviamo sensibili differenze anche nel fondello uno è semplicemente fissato tramite l'utilizzo di quattro viti l'altro è invece saldamente avvitato sulla filettatura incorporata nella cassa anche qui la soluzione è finalizzata la maggiore resistenza alla pressione e lo si evince anche dallo spessore che risulta maggiore e concorre a quella differenza di altezza citata nelle misurazioni da segnalare anche la differente finitura dello stesso completamente liscio ed elegante quello del 37 lavorato con una trama e con il logo in basso rilievo quello da 40 va da sé che anche questa è una scelta che identifica chiaramente la differente vocazione dei due modelli per quanto riguarda il motore interno nulla cambia si tratta del calibro stp 1 11 di fornitura anche se sia zodiac che stp fanno parte dello stesso gruppo unica differenza sta nella complicazione data presente sul modello da 37 si tratta quindi di due calibri che differiscono per lo scatto data alla corona che non è presente su 40 mm la stessa differenza di vocazione la si nota chiaramente sul lato quadrante la peculiarità del 37 mm è di avere il quadrante diviso in quattro settori ad evidenziarle ci sono quattro leggere piegature tra loro perpendicolari che partono dai quarti d'ora e che risultano apprezzabili solamente sotto certe angolazioni questo effetto unito alla finitura soleil rende il tutto alquanto sofisticato e di classe così come lo sono gli indici metallici applicati e di rilievo che offrono il tipico scintillio dei quadranti in stile formale e che fanno il paio con la finitura sempre metallica della sfera ore e minuti qualcosina si potrebbe dire sulla finitura essenziale di quest'ultime un po spartana e piatta a parer mio si poteva fare qualcosa di meglio da segnalare poi l'estroso tocco di colore che contraddistingue la scritta automatic la sfera secondi e lo sfondo del datario un verdino che risulterà sicuramente divisivo qualcuno ci troverà un tocco di fantasia qualcun altro una sottrazione di eleganza di sicuro c'è che il font bianco su fondo verde chiaro è praticamente illegibile tutt'altra storia per il quadrante del 40 mm si parte da un fondo grigio dei grade che si tramunta in nero verso i bordi la finitura è granulosa e pur non essendo opacissima ha la proprietà di assorbire riflessi di luce diciamo l'esatto contrario del quadrante visto in precedenza a chiudere il cerchio ci pensano i numeri arabi posti a corollario che appaiono in netto contrasto di un crema chiaro dal leggero sapore vintage risultano decisivi nel conferire equilibrio al quadrante complice anche l'assenza della finestra data insomma tutto perfettamente leggibile e simmetrico così come sono leggibili anche le sfere ricoperte dello stesso tipo di pigmento luminescente e con un bordo metallico che riesce ad accentuarne il pregio a differenza del 37 mm qui la sfera secondi è a finitura metallica e tende a mimetizzarsi con lo sfondo la si vede solamente quando la si vuol vedere senza strane colorazioni di sorta un'ultima annotazione sulle diciture sul 37 mm è presente il nome del modello mentre sul 40 pur avendo un quadrante più ampio non è presente totale pulizia ed essenzialità risulta chiaro che la leggibilità del 40 è notevolmente migliore nel 37 mm ci sono troppi elementi che creano confusioni quali finitura soleil sfere metalliche piegature sul quadrante nel 40 tutto è a contrasto e ben leggibile in assenza di luce non c'è competizione il 37 mm non prevede alcun tipo di luminescenza anche perché il suo scopo è quello di essere un orologio fine il 40 mm è invece ben leggibile anche al buio nella migliore tradizione dei field watch sportivi nulla da ecepire su entrambi i cinturini vera pelle e morbidezza nativa si può disquisire forse sul colore sullo stile ma qui si va a gusti e a parer mio sul 40 sarebbe stato meglio un nero senza cuciture diciamo come quello azzurro ma in versione nera possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali per me ha vinto il 40 mm come ho anticipato nell'intro e come poi si è anche percepito durante il dipanarsi della comparativa no si sentiva che il tono era più favorevole a quello da 40 mm non ci posso fare niente non riesco a nasconderlo ha vinto il 40 mm perché perché ha caratteristiche tecniche superiori diciamo 200 metri di impermeabilità corona vite fondello a vite leggibilità luminescenza no data e poi se vogliamo veste anche inferiormente a quello che ai 40 mm dichiarati perché abbiamo abbiamo visto che a ore 3 e 9 è 39 mm quindi quindi l'altro è da buttare certo che non è da buttare è un altro tipo di orologio un'altra concezione per me è più adatto a chi ha un polso contenuto oppure anche chi non ha un polso contenuto ma vuole una sorta di dress watch alternativo cavoli un dress watch con questa forma di cassa non si è mai visto e non può essere però potrebbe diventarlo per qualcuno più elegante più contenuto la corona che si va quasi a porre quasi a filo cassa quadrante soleil diviso in quattro settori indici e sfere con finitura metallica no ecco vengono a mancare tutte quelle caratteristiche di impermeabilità di resistenza di è un altro tipo di orologio per entrambi poi vale il discorso dell'iconicità mettiamola così brutto termine cancelliamolo di un orologio che ha una identità propria pregno di personalità un orologio che al polso è riconoscibile da un chilometro di distanza non è che si confonde con altri orologi si va ad indossare un orologio che ci identifica come appassionati il patentino di appassionato ti viene dato con un orologio del genere perché non è la copia di nessuno non è ispirato a nessuno alla sua identità e chi lo indossa lo fa con paraponzi ponzi pa siccome fa rima no ecco io questo vi volevo dire un orologio che secondo me è promosso in entrambe le versioni sia da 37 che da 40 però se io dovesse scegliere di comprare uno coprerei il 40 mm con quel quadrante così con numeri arabi field watch militare sportivo 200 metri io prenderei quello poi sul mio dal 19 ci sta benissimo è perfetto ma sono convinto anche su polsi inferiori promosso da boh mi sembra di aver detto tutto se così non fosse me ne dispiaccio vi ringrazio per essere arrivati fino qua e aver assistito alla comparativa e vi ricordo gli appuntamenti fisiche come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love